Il cuore bianca-azzurro batte ancora. Ritrovati gli stimoli per cominciare una nuova impresa, la forza per continuarla nel tempo e la tenacia di portarla avanti fino all'obiettivo finale, senza mai mollare. La polisportiva città di Mistretta torna, per la 39esima stagione consecutiva, ad entusiasmare i propri tifosi, a favorire la socializzazione attraverso lo sport e sostenere la crescita della città attraverso i luoghi di aggregazione. L'obiettivo è crescere insieme. La parola chiave, lottare. Il Mistretta Calcio appartiene a ciascuno di noi, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di mistrettesi, orgogliosi e determinati. Abbonati e vivi da protagonista la stagione 2016-2017. Condividiamo passione ed emozioni, sosteniamo la nostra squadra, i nostri colori, la nostra fede bianca-azzurro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.